Benica Iola è stato il nostro primo cliente, ma soprattutto un grande amico. La Guaira BC è la tua macchina, te la dedico col cuore. La voce di Horacio Pagani, fondatore dell'omonima società automobilistica con sede in Emilia Romagna, a raccontare in un suggestivo spot girato in Sicilia il gesto di riconoscenza nei confronti di Benica Iola, imprenditore arricchidosi negli Stati Uniti, ma sempre legato alla sua san fratello in cui era nato. A lui, infatti, è dedicata la Pagani Guaira BC, auto di russo che Horacio Pagani ha voluto per Iola primo cliente e motore di passione per la sua azienda. Iola, infatti, oltre che collezionista di Ferrari, ne aveva 40 nel garage di casa, aveva una vera e propria passione per le vetture sportive. L'imprenditore di San Fratello, che spesso ritornava nella sua terra, è morto nel 2010, ma ha lasciato un grande ricordo nella sua gente. Raccontava spesso l'incredibile ascesa economica a New York, nella città simbola degli Stati Uniti, cominciando da zero riuscì a coronare il sogno americano. Era generoso nei confronti di chi aveva avuto meno fortuna e vantava anche amicizie importanti come Rudolf Giuliani, Al Pacino, Bengazzara ed Anthony Quinn, al quale battezzò la figlia. Con Horacio Pagani si era creata una forte amicizia e dava persino consigli sui modelli da sfornare. Così, solo qualche giorno fa, è stata presentata la nuova vettura da 800 cavalli, che uscirà in appena 20 esemplari per una ristretta cerchia di collezionisti. Il video che lancia l'auto è stato girato in Sicilia, fra l'Etna e i gioielli del barocco racusano. Non poteva esserci modo migliore per sigillare il tributo al destinatario. Grazie.